Mesi e mesi di lavoro vanificati dalla grandinata che si è abbattuta sulla provincia di Sernia, delusi gli agricoltori di Longano che speravano di raccogliere i frutti di una terra che coltivano con passione e dedizione. È venuta la grandinata e ha fatto il danno che si vede. Si vuole recuperare qualcosa? No, no, per niente proprio, si vede. Agli occhi del solo. Senta, non soltanto pomodori, anche piante di olivo? L'olivo, l'olivo è tante, tante. Fagioli, patate, ceci, zucchine, fettrioli, insomma, ormai non è rimasto quasi più nulla. Purtroppo no, dopo tanti mesi di duro lavoro siamo rimasti senza niente. A mortificare gli agricoltori non è tanto il danno economico quanto quello umano. La gioia di mettere a tavola cibo sano è guadagnato col sudore del duro lavoro nei campi. Più che altro ci mancheranno i pomodori sani, i fagioli sani, i ceci sani e tutta la passione che ci abbiamo messo è questa. Ecco, il sindaco però ha detto già che avrebbe fatto qualcosa. Sì, il sindaco ci ha promesso che farà qualcosa per aiutarci nel suo piccolo. Intanto il sindaco Cristian Sellecchia si è già attivato per verificare i danni. Immediata anche da parte del primo cittadino la segnalazione dell'accaduto con una prima richiesta di ristoro alla regione molise.